il dottor Ottolenghi, Lorenzo Ottolenghi e il dottor Andrea Valentini e dal direttore delle relazioni istituzionali della RAI, il dottor Fabrizio Ferragni, ai quali do il benvenuto e li ringrazio per la vostra presenza. Come convenuto dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, invito i colleghi a contenere il proprio intervento entro i cinque minuti. Do la parola al dottor Di Bella che riferirà sul piano editoriale della testata giornalistica che gli dirigerà, i News24, con riserva per me e per i colleghi di rivolgergli al termine del suo intervento le domande e le richieste di chiarimento. Però, chiedo scusa direttore, vi è una richiesta del senatore Rossi di intervenire sull'ordine dei lavori, se non erro, quindi do a lei la parola. Prego. Grazie Presidente. Brevemente, io sono piuttosto preoccupato del fatto che ad oggi a questa commissione non è arrivata la convenzione sulla base della quale dovrebbe essere poi rilasciata la concessione del servizio pubblico che scade al 30 gennaio. Ora, io fui il primo a pensare a una proroga l'anno scorso, tra l'altro quando c'era stato il convegno di Gasparri, perché mi sembra che i tempi non fossero sufficienti. Abbiamo avuto una prima proroga che è arrivata ad ottobre, poi c'è stata una seconda proroga nel DDL dell'editoria che arriva al 30 gennaio. Adesso avremmo dovuto ricevere una convenzione, perché noi abbiamo 30 giorni di tempo per poterla valutare, anche se la nostra parere non è vincolante, però deve essere valutata la commissione. Mi pare matematico che, visto che siamo al 21 di dicembre, non ci siano i tempi per che arrivi in commissione, perché ne dibattiamo, perché diciamo le nostre opinioni sulla convenzione, ritorni nelle sedi opportune per poi rilassare la concessione. Si prefigura quindi una nuova possibile proroga, totalmente in violazione del diritto comunitario. Le proroghe sono violazione del diritto comunitario, intanto per quanto concerne come è noto tutta la parte delle concessioni. Una può andare benissimo, voglio dire, tant'è vero che era stata fatta anche di tempi piuttosto brevi, ma ormai siamo arrivati a una situazione dove io penso che abbiamo oltrepassato ogni limite, peraltro non sappiamo che cosa venga proposto, perché questa convenzione dove è non lo sa nessuno, nessuno ne ha visto traccia. Quindi io propongo, Presidente, semplicemente di, al nostro rientro, magari al 18 di gennaio, se magari convocheremo, se sarà già stato fatto, magari il sottosegretario, il viceministro chi, per sapere qual è la situazione. Grazie. Lei, Agiane, anche lei vuole intervenire, Senatore Ror? Ah, prego, allora anche lei, prego, prego, la prego. Sarò rapidissimo, ma trovo estremamente attinente questo intervento che sto facendo, soprattutto sul metodo, avendo qua il direttore Di Bella, che dopo avrò modo di ringraziare per la sua presenza, ma perché noi, purtroppo, io trovo che questa commissione venga costantemente umiliata dalla dirigenza Rai, ho avuto modo anche di esprimerlo alla Presidente Maggione, al direttore dell'Orto, in particolare con l'uscita costantemente di notizie riguardo alla riforma News che noi chiediamo da tempo venga presentata a questa commissione, dopo una presentazione farlocca del direttore Verdelli, che non sappiamo neanche se si dimette, se si è ancora lì, se si è dimesso, se non si dimetterà, perché anche queste informazioni le assumiamo esclusivamente dalla stampa. E' uscito ieri un articolo di Repubblica in cui si profila una riforma che vede implicata TGR Renews, non solo, una riforma del settore Renews con la formazione di 5 macro regioni, con 5 super governatori, quindi altre poltrone, mantenendo le 21 sedi locali e chiaramente questo va a essere un argomento centrale dell'audizione anche di oggi. Allora io presumo che il direttore dell'audito possa anche dare risposta o parlare rispetto forse alle intenzioni, ma trovo che non sia corretto che venga un direttore a parlare di un piano che invece, o comunque che subirà domande da parte di questa commissione, su un piano che invece la RAI continua a tenersi nei cassetti, tranne darla ai giornalisti, ma non darla a questa commissione. E io, Presidente, mi guardo, trovo inaudito che questa commissione debba sempre rincorrere notizie di stampa che poi peraltro non sappiamo se sono fondate o meno. Grazie. Anche lei sull'ordine dei lavori? Sì, scusi, scusi Senatore, prego Onorevole. Grazie, Presidente. Sulla proposta del Senatore Rossi, se non sbaglio, noi abbiamo anche in coda convocato l'ufficio di Presidenza, per cui credo che la proposta del Senatore Rossi possa essere discussa e per quanto mi riguarda anche approvata, ma lo discutiamo nell'ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda la sollecitazione del Senatore Eroio, mi sembra che noi come commissione già più di una volta abbiamo chiesto alla RAI nel momento in cui veniva approvata di trasmetterci repentinamente il piano dell'informazione. Mi sembra che ad oggi non sia ancora stato approvato. Se non ho letto male, domani dovrebbe essere un CDA in cui viene approvato un discorso, non ho capito, questo piano dell'informazione. Per lui sempre nell'ufficio di Presidenza credo che possiamo reiterare la richiesta all'azienda che nel momento in cui viene approvato ci venga trasmesso. Avendo quindi l'ufficio di Presidenza, forse il Presidente possiamo procedere invece con l'ordine del giorno e l'audizione del Presidente del Direttore di Bello. Praticamente lei ha fatto le mie veci perché stavo per dirlo, nel senso che stavo per ricordare al Senatore Rossi e al Senatore Erola che fra poco, al termine di questa importante audizione, avremo l'ufficio di Presidenza. Quindi vorrei pregarla di rimanere per rappresentare al Presidente della Commissione, l'Onorevole Fico, questa sua giusta richiesta, che peraltro dovremmo però, come anche lei ha osservato, è collegata alla nomina del sottosegretario o viceministro di Castero competente. Quindi immaginando che questo avrà luogo nell'arco dei prossimi giorni potremo confermare quella sua richiesta alla ripresa dell'attività parlamentare. Io a questo punto darei la parola al Direttore di Rai News 24, il Dottor Antonio Di Bella. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora io cercherò di fare un intervento breve in modo che ci sia anche spazio sufficiente per le precisazioni, che ovviamente io devo illustrare in estrema sintesi quello che è stato il piano editoriale, che prescinde naturalmente da qualsiasi altro piano complessivo, che ovviamente non è di mia competenza. Io ho presentato questo piano alla mia redazione diversi mesi fa, ormai, quando sono arrivato da Parigi, se vai da Carano in carica, mi sembrava stimolante la All News, che è un elemento di novità rispetto secondo me a una forma di comunicazione dei telegiornali che è un po' legata a canoni passati, e l'All News che ho avuto modo di vedere in America, dove ho vissuto e ho lavorato, cioè con la CNN naturalmente e la Fox, e in Francia con BFM, che è un strumento molto interessante per quanto riguarda il tipo di informazioni All News, e sperimentare in Italia e una cosa del genere, mi ritengo molto importante. Poi, sulle sinergie con il resto dell'azienda potremo parlare a lungo, ma non è di mia competenza e non attiene a quello che posso dire. Comunque, in estrema sintesi, All News è una formula che forse potrà avere un inganno. Secondo me ormai il palinsesto informativo di una All News non può essere soltanto, scusate il gioco di parole, All News, ma ci deve essere un'evoluzione, ed è quello che ho cercato di fare nel mio piano e nella situazione del piano, cioè un'informazione che ha l'informazione che non è più un rullo interrotto di notizie, ma nella prima parte ogni mezz'ora, cioè i titoli, mezz'ora di informazione, e poi in ogni seconda mezz'ora un approfondimento di diverso tipo, da cronaca dal mondo, cronaca dall'Italia, orienti, che poi abbiamo modificato, americhe, perché poi le americhe sono due e non una soltanto, a Marcord, il nostro passato, che è un elemento importante in collegamento con il presente e con le teche RAI, quindi un patrimonio che la RAI può avere. Io stesso faccio un programma che si chiama Sembra Ieri, che mette insieme il fatto di oggi e il fatto di ieri, ad esempio stiamo lavorando sul terremoto, non possiamo non ricordare i terremoti del passato e le esperienze, quindi un continuo rimando che non è quindi questo flusso di informazioni che è un po' come su internet, in cui non si capisce più niente, ma che cerca sempre di mettere in relazione oggi e ieri. E poi dei temi che tradizionalmente non sono dell'all news, come l'alimentazione, che è molto importante, mordi e fuggi è una nostra rubrica, la salute, la cultura, tutti i frutti che è un magazine di cultura, perché l'informazione non è soltanto il crollo, la bomba o l'inaugurazione, ma è anche gli eventi culturali e Dio sa quanto la nostra Paese abbia bisogno di parlare di una buona cultura, specie quella periferica di cui non si parla. Non sto a elencare qui tutte le rubriche, però diciamo la struttura fondamentale di un'ora nostra è titoli, mezz'ora di telegiornale classico e rubrica che può essere di vario tipo, dalla cultura all'approfondimento, all'intervista, al vecchio. Noi naturalmente siamo attenti alle periferie dell'Italia e del mondo e svolgiamo, e questo è faticoso per i miei colleghi, ma credo importante, è anche una funzione di service per la RAI, cioè l'esempio più lampante è la nostra Lugia Goracci che va in Siria e naturalmente non fa il pezzo solo per RAI News, ma fa il pezzo per tutte le varie testate RAI. Ogni sera, e i nostri vice direttori lo sanno, abbiamo ormai le chiamate di tutti i contenitori del mattino che ci dicono dove avete i vostri inviati, da Gorà a uno mattina, eccetera, diciamo noi li abbiamo nel terremoto, allora possiamo usarli anche noi e quindi questo è secondo me un utilizzo che comporta un po' un aggravio di lavoro ma che dimostra come quindi il nostro lavoro non sia soltanto legato a quello zero, a quell'ascolto piccolo che facciamo ma è un'utilità anche per complessiva di tutte. Quindi il lavoro, io sono arrivato a marzo, siamo a fine anno, anche se secondo me non bisogna essere schiavi dell'audience, però diciamo che abbiamo grosso modo raddoppiato, siamo arrivati a 020, anzi forse anche triplicato in qualche caso, ma io non mi affeziono poi alle gare. Diciamo che è migliorata la qualità, la percezione e soprattutto un dato che ho avuto stamattina, la permanenza sul canale medio dell'ascoltatore di 22 minuti, prima era di 10.15, quindi vuol dire che alla fine la gente ci sta a guardare, secondo me poi, e poi qua parleremo in serie di replica magari è importante che ci affacciamo sulle generaliste, un po' per risparmiare perché è tutta questa massa di lavoro che è già migliorata. Quando noi andiamo di notte, noi andiamo di notte sulla Rai 1 e su Rai 3, dalle 2 alle 6 del mattino, ecco alle 6 del mattino noi facciamo 9-10%, quindi vuol dire che è un prodotto buono e che se venisse ulteriormente valorizzato sui canali generalisti avrebbe la totale dignità di fare buoni ascolti, quindi credo che però da qui in poi andiamo nel campo del futuribile e qui per il momento mi fermo. La ringrazio direttore per il suo intervento d'apertura. Il tempo contenuto del suo intervento offre l'opportunità ai senatori e deputati di rivolgerle subito delle domande. Darei la parola al primo iscritto che è il senatore Rossi e cedo la presidenza al Presidente Fico. Grazie Presidente. Io vorrei complimentarmi sinceramente con lei direttore per il lavoro che avete fatto. Avete fatto un salto di qualità straordinario, ma veramente bello. La grafica, i picture in picture, invenzioni anche di modalità diverse in un quadrato, rettangolari, senza bordi, il crawl che non scorre più, ma che gira, che secondo me è straordinario perché non ce la faceva più, ma alla corsa dei cavalli. Devo dire, avete fatto un lavoro stupendo, si vede che gli ascolti si sono migliorati. Io, guardi, non sono uno che pensa che gli ascolti siano quelli che testimoniano la qualità di quello che si fa, ovviamente. Tanto più canali di old news, sappiamo che non sono canali che possono fare dei grandi ascolti, ma sono estremamente utili perché un cittadino può andarci sopra quando vuole per avere le sue informazioni. Quindi veramente complimenti per quello che avete fatto. Due domande che le porrei. Lei diceva prima sul problema di andare sul generalista. Senti, se fosse per me, Rai News dovrebbe essere sul canale 3 del telecomando. Non ha senso avere Tg1, Tg2, Tg3 e tante cose uguali. Io avrei messo Rai News sul canale 3 del telecomando. Quello avrebbe una grandissima logica e sono sicuro che aumenterebbe gli ascolti in un modo enorme. Quanto meno utilizzarlo è fondamentale. Questo comporta sicuramente che debba esserci un piano di informazione nuova. Legandomi a quanto dicevo prima, mi è strano che si pensi a fare dei piani di informazione con una concessione in proroga e una convenzione non ancora stipulata. E' una follia del tutto per assurdo, però sappiamo che teoricamente qualcuno potrebbe anche contestare la stessa concessione nel momento in cui verrà data in sede europea perché la legge che ha dato alla Rai il servizio pubblico ad oggi non ha inserito una clausola fondamentale, non ha inserito la spiegazione del perché Rai è considerato l'unico soggetto che può fare il servizio pubblico. E sappiamo che la Sette e altri soggetti potrebbero sostenere di farlo, ma doveva essere messo nella legge, perché questo è quello che dice la legge europea. In ogni caso il vostro prodotto è stupendo, la collocazione è importante e anche sulla parte interne vorrei una sua opinione sul fatto di come lei pensa che sarebbe giusto, perché da una parte si dice che Rai dovrebbe avere un unico sito interne, dall'altra parte voi fate un prodotto che forse un sito interne collegato a voi sarebbe corretto. Quindi queste sono le due domande, l'apposizionamento e l'apposizionamento di Inter. Grazie Presidente, ringrazio il Direttore Di Bella e i Vice Direttori Ferragni per essere qua. Anch'io devo dire che sicuramente Rai News ha fatto un salto di qualità, non indifferente, lo ricordo adesso l'audience come diceva lei non è importantissimo, ma anche lo è a fronte delle risorse investite, c'è chi prima di lei poteva veramente portare con i soldi che spendeva direttamente a casa di ognuno dei abbonati a Rai una vellina con le informazioni spendeva meno che a mandare in onda probabilmente ore e ore di palinsesto. Quindi sono contento che Rai News si sia evoluta perché poi l'all news è indubbiamente un'operazione che va fatta oggi a livello mediatico, che forse è il passaggio tra l'analogico e il digitale in qualche modo, che forse domani con una piattaforma completamente integrata e digitale potrebbe diventare qualcos'altro. Io ritengo che forse la Rai a questo punto, visto la mia esperienza in questa commissione, nonché quella prima anche come operatore del settore, ma soprattutto durante questi tre anni mi sono reso conto che potrebbe diventare un unico canale di informazione, avere un unico telegiornale, Rai News, peraltro per 24 ore. Non mi dispiace l'idea che si unisca, sempre che questo avvenga, si integri con le ITGR. Perché? Perché tra l'altro Rai News ancora prima, ancora molto tempo fa, aveva come anche il TG2 una bella tradizione di approfondimenti, e secondo me oggi nell'entropia informazionale, nel continuo ripetere di alcune notizie che poi diventano anche poco significative nella loro ripetizione, perdono efficacia, avere la possibilità di alternare con approfondimenti, per esempio su casi di cronaca direttamente dal territorio è il vero plus valore che potrebbe dare la Rai, sempre che come dicevamo nell'intervento prima, poi insomma non ci cambino i piani, le carte in tavola con appunto queste notizie di riforma del comparto News che ignora questa commissione perché non gli vengono dati i dati, ma se così avvenisse sicuramente ci sarebbe un prodotto che non è rintracciabile in nessun altro competitor e che caratterizzerebbe assolutamente il servizio pubblico nella sua funzione principale, quella di informare e soprattutto ribadisco approfondire, perché non abbiamo problemi di share. Quindi se anche mandiamo in onda qualche cosa, adesso mi sono molto incuriosito dalle rubriche anche che lei citava in maniera generica, se può darmi anche qualche accenno interessante sembra ieri, cioè il raffronto perché anche qui manteniamo una memoria storica, facciamo capire ai cittadini italiani che alcune cose sono cambiate e altre non lo sono per niente e anche sugli approfondimenti culturali. Basta quindi rulli ripetitivi, basta ripetizioni appunto fine a se stesse con tutta questa ricchezza appunto che la RAI ha a disposizione. Sulla questione del service per gli altri palinsesti RAI io le raccomando, visto che le risorse dovrebbero stare in capo al direttore, una grande attenzione ai collaboratori con cui si lavora. Rispetto in RAI purtroppo ci assistiamo a una casta magari di privilegiati e anche a tanti precari sfruttati. Si sa che l'indipendenza giornalistica dipende esclusivamente dal giornalista e un giornalista ricattato non un giornalista libero. E poi soprattutto la qualità dell'informazione. Ci sono occasioni in cui la news richiede un intervento tale per cui la qualità è secondaria, ci sono prodotti e situazioni in cui invece la qualità è molto importante perché la qualità di un'immagine non esiste, una sostanza senza una forma, è molto importante. Quindi selezionare e avere dei feedback, io questo l'ho detto al direttore generale ma lo ribadisco anche ai direttori di testata, dei feedback qualitativi sui service, trattare bene i lavoratori, rendere i più possibili indipendenti, anche meno sfruttati, meno ricattabili i collaboratori, sia giornalisti che tecnici, sia interni che in appalto. Questa è una cosa importante e poi chiuderei chiedendole esclusivamente un'unica cosa che io ho notato un po' fastidiosa è durante le rassegne stampe certi commenti del giornalista sulla rassegna stampa quando dice questa sì magari compare rottamazione cartella Equitalia, questa sì è una bella notizia. Mi è capitato di sentirlo poche volte però sono cose che sinceramente su un prodotto ben confezionato come suo stonano ancora di più. Grazie mille. Anche sul web se ci può dare qualche ulteriore ragguaglio sarebbe utile. Grazie, mi scusi Presidente. Maragiotta, prego. Grazie Presidente, sarò brevissimo, faccio due piccole premesse e pongo un quesito. Una premessa la devo fare anche se so che questo, avendolo ripetuto più volte, determina qualche malumore nell'ufficio di presidenza. Insomma io ho sempre ritenuto che questo ciclo di audizioni dei direttori di testata in mancanza di un'audizione seria e attuale di Verdelli e di Campodallorto fosse un ciclo con un'utilità relativa. Per cui credo che abbia sbagliato l'ufficio di presidenza a ritenere di fare prima queste audizioni e poi quella di Verdelli e Campodallorto. Questa mia tesi ha un valore, credo, molto più cogente e forte in questo momento, considerato che la scorsa settimana, da quel che si sa, è stata presentata una prima bozza di piano, per cui noi rischiamo di discutere con direttori bravi, e poi ci tornerò come di bella, di cose un po' astruse, visto che contemporaneamente alla nostra discussione con i singoli direttori qualcuno ragiona a come riorganizzare il tutto. Per cui le devo dire, Presidente, penso, non me la sento di dire che stiamo perdendo del tempo negli ultimi mesi, ma penso che quantomeno non siamo stati sulla palla come dovevamo essere, per cui da questo punto di vista non sono d'accordo con Airola di più. Credo che avremmo dovuto svolgere ben altro ruolo come Commissione. Ciò, appunto, dicevo, a maggior ragione oggi. Io sento cose surreali e spero che non siano vere. Mi raccontano che il Direttore Generale presenta un piano, tra virgolette, Verdelli, in CDA dicendo che in questo piano molte cose non mi piacciono, che è una cosa che in qualsiasi azienda sarebbe ritenuta risibile, perché un Direttore Generale porta un piano che gli piace e se non gli piace non lo porta. Né si può ritenere che esista un piano Verdelli per cui se poi le cose non vanno bene c'è, come dire, un capo espiatorio. Il piano è il piano del Direttore Generale. Nella precedente guida della RAI noi parlavamo di piano cubitosi, mica del piano dei tre consulenti che lavoravano. Per cui, insomma, mi pare che le cose veramente stiano acquisendo una struttura e un andamento che io continuo a non comprendere. Ne parleremo. Ma, insomma, in questo quadro chiedere al singolo Direttore, anche a Bravissimo, come il Direttore Di Bella, di parlarci delle sue idee su come riorganizzare il servizio, che poi è quello che chiederò anche io, è un bellissimo esercizio quasi caffiano. Cioè, parliamo del passato senza capire in futuro cosa avverrà. E, francamente, insomma, le cose caffiane che facciano perdere un po' di tempo non appartengono al mio modo di vivere e di agire, non solo in politica. Ciò ho detto. Credo che nel quadro di una serie di cose che non stanno funzionando in Rai, Merlo che si dimette, gli ascolti di Semprini, eccetera, la nomina del Direttore Di Bella sia una delle cose buone che ha fatto questo nuovo corso. E mi fa piacere averlo sentito anche dagli interlocutori che hanno parlato prima di me. Perché, insomma, è stato scelto un professionista di livello. Mi verrebbe da dire con una battuta la sensazione è che hai preso Maradona e lo fai giocare in difesa. Oppure da interista, mi verrebbero altri esempi, Icardi gioca in porta. Hai un professionista di prima qualità, ottimo che abbia raddoppiato lo share dallo 0,x allo 0,2x, ma è altro quello che si deve fare utilizzando come direttore una personalità di qualità come la sua. E allora avrei chiesto, provocatoriamente ovviamente, perché conoscendolo come odimondo sapevo che non avrebbe risposto, avrei chiesto ma come lo scriverebbe lei il piano editoriale. Ma siccome lei già in premessa ha detto non è mio compito, le chiedo soltanto come penserebbe che Rai News possa funzionare molto meglio, ovviamente con un salto di fantasia che non sia solo legato a quello che oggi Rai News fa. Fisicchio, prego. Grazie Presidente, Direttore, Vice Direttore, Dottor Ferragni. Io non devo fare una domanda, ma solo esprimere, e mi piace farlo perché siamo in clima natalizio, una considerazione, una volta tanto, una considerazione che è totocorde adesiva rispetto a quello che sta facendo il Direttore di Pella. Lo è, qui solo per un secondo recupero considerazioni che hanno già svolto i miei colleghi, lo è dimostrando che una professionalità alta, che è tutta Rai, non è recuperata nel pulviscolo altro, ma tutta Rai, riesce a mettere in campo una godibilissima possibilità da parte di una, di un Direttore di Pella, che come del resto tutte le all news ha un suo andamento, un suo share e un suo pubblico, che non è certamente di quelli maggioritari, ma per la natura stessa della struttura dell'informazione, ma riesce anche ad esprimere una grande creatività, ha fatto riferimento ad una delle risorse più grandi della Rai, Attingo dalle Teche, e io credo che noi dovremmo farci tutti carico di questa grande memoria che è patrimonio comune del Paese, altro che archivio di Stato, è la nostra memoria storica e lei le sa usare bene, così come ha usato bene ogni altro tasto di questo complicato e limitato anche da un punto di vista delle strutture, delle possibilità, non mi pare che lei con Rai News 24 rappresenti il capitolo di spesa più alto del bilancio Rai. Quindi, indirettamente, ma lei non mi deve dare nessuna risposta, c'è già una traccia su cui lavorare per la costruzione di un piano dell'informazione di senso, perché fino a questo momento abbiamo avuto una serie di spot, di anticipazioni, abbiamo letto, abbiamo come dire, avuto modo di annusare dei test, un vago sentiment di un piano dell'informazione, è diventato una cosa un po' misteriosa, un po' mitologica, perché da un anno che ci stanno lavorando, io credo che cose di questo genere poi alla fine debbano essere destinate a parti particolarmente impegnativi, quindi ci aspettiamo una sorta di enciclovedia treccani del piano dell'informazione, quando sarà, nel momento nel quale ci sarà sottoposto la nostra attenzione. Però, voglio dire, qui c'è già una traccia di come possono essere fatte bene le cose senza complicarci troppo la vita. Quindi, davvero, non le devo chiedere niente, ma solo esprimere la mia considerazione. Ah, Peluffo, prego. Grazie, Presidente. Voglio anch'io intanto ringraziare il Direttore per la presenza, per la comunicazione e il lavoro che sta svolgendo, rispetto al quale ha già ricevuto sinceri apprezzamenti anche dai colleghi, non è assolutamente scontato. Ecco, quindi credo che questo sia il dato che lei possa tenere come un sincero apprezzamento del lavoro da parte del complesso dei colleghi che sono intervenuti. Io in realtà non ho domande specifiche da farle, se non, visto che si è fatto riferimento anche al percorso di audizioni, Presidente, i colleghi se lo ricorderanno. Noi abbiamo scelto, anche sotto richiesta, di fare un ciclo di audizioni dei direttori in relazione innanzitutto alla gestione del periodo di parcondicio. Questo era il senso e il significato del percorso di audizioni. Poi, per una serie di motivi, di impegni del direttore, di calendario d'aula del Parlamento, questa audizione è scivolata a dopo il referendum. Credo che sia in ogni caso una audizione utile. Forse quello che possiamo chiedere al direttore è di aggiungere, se lo ritiene, una sua valutazione esposta a questo punto, evidentemente, della gestione della parcondicio in riferimento ad un regolamento, quello approvato da questa Commissione all'unanimità peraltro, che introduceva alcuni elementi di novità rispetto a quelli precedenti. Per cui io credo che sia di interesse capire se un regolamento votato all'unanimità, alcuni elementi di novità, abbia consentito un lavoro più agile, più puntuale, o se abbia a questo corrisposto delle difficoltà, che è utile mettere agli atti, perché possa costituire anche materiale utile per il lavoro di questa Commissione per i futuri regolamenti applicativi della parcondicio. Per quanto invece riguarda il dibattito sul piano dell'informazione, che è evidente che ha l'attenzione di tutti i commissari, e poi ognuno con la sua sensibilità istituzionale e politica ritiene come declinarlo. Però sempre su questo, come Commissione, abbiamo ritenuto di intanto sollecitare l'azienda ad approvarlo e quindi di trasferirlo. Anche perché voglio ricordare che questa Commissione, rispetto al piano che verrà approvato e presentato, dovrà esprimere un proprio parere, come era stato precedentemente con l'ottimo lavoro fatto dal relatore Presidente Pisicchio. Mi sembra di capire, visto che siamo ormai a ridosso del Natale, che l'impegno che si erano presi qua ai vertici RAI, che era di una presentazione di uno step intermedio prima dell'approvazione formale, non ho capito se nella giornata di domani è già l'approvazione formale, quindi anticipata rispetto a quello previsto per gennaio, se invece domani è quello step intermedio di cui ci avevano parlato e quindi poi ci sarà un'approvazione. In ogni caso, quello che c'è di step, quello che c'è del piano, lo abbiamo detto prima, sollecitiamo che ci venga trasmesso, quando sarà formale esprimeremo il nostro parere, così tutti i commissari avranno l'occasione di esprimersi in maniera compiuta. Grazie Presidente. Grazie, sembra che non ci siano... Ah, Verducci, prego. Grazie Presidente, anch'io aggiungo a quella dei colleghi alcune brevi considerazioni. Intanto ringraziando il Direttore Di Bella per la sua comunicazione, seppur molto sintetica e soprattutto voglio dire a questo punto per il lavoro che il Direttore e la sua squadra stanno dimostrando con grande autorevolezza di saper fare in tempi molto difficili, naturalmente, come sappiamo, in tempi anche drammatici, quelli che tutti noi viviamo, purtroppo anche quotidianamente, abbiamo negli occhi, negli ultimi mesi, la vicenda continua ripetuta di attacchi terroristici in ogni parte del mondo e anche nella nostra Europa, ma anche la vicenda molto drammatica dei sconvolgimenti, delle catastrofi naturali, tra cui appunto quello del terremoto che ci ha investito con particolare durezza e drammaticità prima il 24 di agosto e poi il 30 di ottobre. Ricordiamo in ognuno di questi avvenimenti così drammatici una assoluta risposta di informazione, di completezza, di autorevolezza da parte della vostra rete e da parte anche della sua direzione. Certamente Rai News è molto cresciuta in questi anni e molto ancora deve crescere. Lei nel suo intervento ha accennato anche ad un tentativo sempre più forte di reinventare la Rai News anche cercando di dare spessore a quella che è la programmazione all news e quindi anche un tentativo di evoluzione che va oltre quella che è l'impostazione classica dell'all news che quando è nata è stata certamente la cosa più rivoluzionaria, forse tra le più rivoluzionari della televisione moderna e del servizio pubblico moderno. Da questo punto di vista la Rai su questo si gioca tantissimo e l'informazione in tempo reale non è solamente il breaking news ma è anche la capacità di saper tenere insieme un racconto del presente. Immagino che le cose che lei ci abbia elencato vadano in questo senso cioè il tentativo di tenere insieme eventi anche molto diversi gli uni dagli altri però con un filo conduttore che permetta anche all'utente cittadino di formarsi e di comprendere, di capire e quindi di svolgere servizio pubblico. Ecco da questo punto di vista anch'io però così nel concludere questo mio intervento da questo punto di vista penso che la sua relazione è l'ultima di una lunga carrellata di audizioni che qui negli ultimi due mesi abbiamo fatto. Ecco noi adesso abbiamo davvero l'urgenza di poter esprimerci su quello che è il piano editoriale del piano editoriale della RAI perché noi lo abbiamo già fatto veniva ricordato adesso dal collega Peluffo e dai colleghi che mi hanno anticipato ce l'abbiamo fatto già un anno fa quando questa commissione di vigilanza su un tema così importante produsse anche un documento importante insieme anche e che venne poi accolto naturalmente dall'azienda, un documento anche innovativo. Noi ci aspettiamo appunto di poter andare avanti con quel lavoro e ci aspettiamo che la RAI sia all'altezza di quella innovazione su questo tema che le compete in modo da lasciarsi alle spalle delle inadempienze che sono dovute soprattutto a un'organizzazione figlia oramai di un mondo passato e poter primeggiare su questo tema dell'informazione di cui l'All News è tanta parte anche nella competizione internazionale con gli altri servizi pubblici. Grazie. Grazie Verducci. Rampelli, prego. Sì, intanto anch'io mi unisco a ringraziamenti, prendo la parola e sarò brevissimo giusto appunto per evitare che un silenzio potesse essere interpretato come una presenza omissiva. Invece ci tengo comunque a unirmi al coro che fin qui abbiamo ascoltato di soddisfazione per il lavoro che è stato svolto fin qui dal direttore, dai suoi collaboratori, dal suo staff. Io penso che se un problema vogliamo cercare di individuare, questo sia ancorato più alle linee strategiche della RAI e quindi nell'insieme al ruolo che deve ricoprire RAI News, piuttosto che al suo potenziale attuale, che alle condizioni date ritengo sia esattamente in sintonia con i risultati che può conseguire. Il prodotto è un prodotto di qualità, direi che anche l'aspetto che riguarda il rapporto con le istituzioni repubblicane, la rubrica transatlantico, mi pare che sia gestita con grande equilibrio e direi anche in modo forse originale, perché non è una trasmissione seduta e quindi riesce a farsi interessare nel rimbalzo tra collegamenti, attualità, commenti, commenti incrociati, quindi con sempre grande capacità di mettere gli interlocutori sul piano della sfida reciproca e quindi ha un servizio al bisogno di chiarezza da parte del telespettatore che secondo me è una formula che insieme alle altre rischia di funzionare, rischia ovviamente tra virgolette. Penso che la battaglia per quello che riguarda un po' tutti, compreso il direttore e la sua governance di riferimento, la battaglia la si debba condurre per fare in maniera che uno strumento così moderno, innovativo, dinamico possa acquisire maggiori posizioni, però ripeto, insomma è una lettura più ampia che non compete esclusivamente a lei, se non in piccola parte, ma compete ai vertici della RAI, magari anche con le necessarie indicazioni che riusciremo a far pervenire da questa Commissione, semmai qualcuno avrà desiderato di ascoltarle. E con questo dimostro, rispondendo a qualche collega che polemicamente ma simpaticamente ogni tanto ha eccepito sulla mia mania, diciamo così, di citare i dati, anche perché comunque il rispetto del polarismo dell'informazione è una competenza della RAI ed è una competenza della Commissione di Vigilanza sul servizio pubblico radio-televisivo. Quindi mi sono sperticato in apprezzamenti, nonostante la presenza di Fratelli d'Italia, soprattutto quando non c'è la par condicio, su Rai News sia molto, ma molto al di sotto, non solo delle nostre aspettative, ma anche dei nostri diritti, se così vogliamo definirli. Quindi non è soltanto un problema di presenza in termini materiali e quantitativi, ma è anche un problema talvolta di scarsa presenza della sensibilità culturale di cui siamo espressioni. Penso che questa tradizione della presenza della destra italiana nel dibattito politico esista a prescindere e debba essere comunque adeguatamente rappresentata in qualunque tipo di rete. Però, ripeto, questo è un appunto, se vogliamo, fatto in maniera assolutamente costruttiva che mi sento di consegnare, fermo restando, tutto ciò che ho detto prima e che si unisce comunque al coro di apprezzamenti che ho ascoltato fin qui. Grazie Rampelli, ci sono altri interventi? Sì, mi sembra chiaro e non ci sia dubbio che oggi è l'ultima commissione prima di Natale che il 2017 si aprirà col grande lavoro che la Vigilanza dovrà fare sul tema informativo rispetto al piano News che ormai è in presentazione al Consiglio di Amministrazione e dovremo lavorarci tantissimo così come abbiamo lavorato sul piano Gubitosi dove questa commissione elaborò 17 punti che poi furono recepiti dall'allora Consiglio di Amministrazione e fu un lavoro profigo. Spero che questo lavoro che ci apprezziamo a fare sia altrettanto profigo perché l'informazione è proprio il tema che questa commissione tratta e l'informazione RAI è proprio il tema su cui si deve sviluppare secondo me il processo di indipendenza che la RAI deve avere di qualità e di competenza sempre maggiore. Questa commissione farà il suo dovere fino in fondo e userà tutto il suo tempo a disposizione per lavorare insieme alla RAI, da istituzione ad azienda. Grazie direttore anche per la sua presenza e per le risposte che ci darà. Grazie Presidente, grazie a tutti i senatori e deputati per le buone parole che riferirò alla redazione sono soprattutto il merito del lavoro invece dei più giovani perché ecco uno dei segreti è che delle buone qualità dell'informazione è che è una delle azioni più giovani quella di RAI News quindi molto non è il mio merito ma è il merito anche dell'età e della voglia di fare dei ragazzi e delle ragazze che lavorano con me. Allora cerco di dare una risposta ai quesiti. Innanzitutto vi scuso perché effettivamente io ho messo tutta la parte internet e televideo è un'omissione istintiva è stata in qualche modo perché so anche se un po' come voi perché il piano editoriale non dico che lo leggo solo nei giornali però non sono nel gruppo di lavoro che lo stai lavorando quindi ho letto che internet dovrebbe essere incorporato quindi ho avuto come un'omissione istintiva però non ho difficoltà a dire quello che abbiamo fatto fino adesso e che stiamo facendo ancora. Noi abbiamo ancora allo Stato la gestione dell'informazione via web della RAI non tutto il web ma solo la parte informativa che tra l'altro sta avendo un buon incremento di contatti io credo comunque che in qualche modo, in una qualche forma una all news è in qualche modo collegata in ogni caso non potrebbe essere liberata totalmente del suo sbocco sul web perché come sapete ormai sempre di meno si guarda la scatola della televisione sempre di più si guardano anche le informazioni sul tablet e sui nuovi device in cui si alterna tv classica diciamo in streaming e informazione online quindi sicuramente internet è una parte dell'offerta informativa e verrà molto importante come nel piano questo verrà declinato sicuramente con una intersezione con il nostro lavoro comunque abbiamo già un gruppo di lavoro tra l'altro guidato dal vice direttore Otto Leghe qui con me che fa un buon lavoro io credo proprio stamattina dicevo tutti i flash che arrivano al volo sono fatti da questa redazione perché ormai la gente non aspetta più la sera di vedere il PG1 o il PG2 ma gli arriva sul telefonino l'informazione e poi magari a quel punto accende il suo iPad e guarda il canale quindi è tutto un tipo di informazione connessa io condivido tutto quello che ha detto il senatore Irola allora cominciando con ordine l'integrazione con la TGR per me è fondamentale nel senso che io nasco redattore praticante alla RAI di Milano quindi ho lavorato proprio con quando c'era ancora l'assistente operatore della pellicola e quindi sono affezionato proprio al lavoro artigianale che si fa nelle periferie quindi tutti dicevano è arrivato un corrispondente fare un'informazione no invece la prima cosa che ho fatto è fare cronaca dall'Italia alla mattina per vedere cosa succede nelle periferie perché certe volte, lo dico sempre nelle mie riunioni noi facciamo tutto della Siria e magari poi ci sfugge quello che succede a Bitonto o a Saronno e questo è perché è più faticoso raccontare quello che succede quindi io credo e sono assolutamente d'accordo che qual è la nostra forza rispetto a Sky i colleghi di Senso sono bravissimi le competizioni con loro però la nostra forza è il territorio ed è un processo che io sto facendo con l'aiuto l'aiuto del collega Morgante che era caporedattore in Sicilia quando ero caporedattore a Milano quindi siamo in qualche modo fratelli è passare dal meccanismo attuale e qui ci vuole proprio che nel piano editoriale ci sia però quando sarò ascoltato lo dirò cosa succede quando il caporedattore regionale riceve una telefonata da Roma allora succede un incendio lo chiamano i caporedattori 1, 2, 3, radio e a Re News cosa fa il povero, il caporedattore? dice allora prima servo giustamente il PG1 cioè mi metto in grado di fare la cosa migliore per quello che avverrà alle 8 di sera perché lì è la vetrina più grossa eccetera poi c'è il 2, poi c'è il 3 poi ci sono quei rompi balli di Re News dicono aspettiamo un momento zainetti diretti tanto lavoriamo per fare un bel pezzo per il PG1 che quella è una cosa importante e la parte del boscaio va in onda ecco una cosa culturale più che ancora che tecnologica quindi è un processo che abbiamo avviato che stiamo facendo che va fatto assolutamente perché altrimenti siamo fuori mercato ed è anche inutile avere tutta questa presenza di cui da sul territorio però ovviamente è una cosa faticosa, difficile che sta andando avanti con la volontà specie dei più giovani con la mia conoscenza personale di tanti caporedattori che dice ah Tonino fammi un piacere tanti riconti eccetera lo so che lì è difficile arrivare perché poi l'Italia la conoscete quindi è facile dire mandiamo un pullman ma molto spesso è più facile avere un service che già sul posto però diciamo comunque il tema è quello il tema è fondamentale questa integrazione poi si faccia come si faccia non è compito mio io mi fermo segnalo solo che è decisivo e il rapporto regioni all news è vitale ed è uno strumento potentissimo che può veramente farci vincere sui competitori e soprattutto dare l'informazione giusta al paese quindi io sono attentissimo allo sfruttamento cioè alla lotta contro lo sfruttamento dei precari che noi non abbiamo precari abbiamo tutti rigorosamente rispettiamo il contratto di lavoro è vero è il tema è vero quello dello sfruttamento invece delle figure professionali in Italia come nel mondo io sono venuto anche a Parigi nel Bataclan arriviamo noi della RAI garantiti con il nostro operatore e poi vedevo davanti al Bataclan una ragazzina spesso donne sono di 22 anni con una camera l'antenna la luce e il microfono che stava lì 24 ore al giorno ed è questo il portato della globalizzazione perverso perché chiaramente la tv locale specie i tele che ha un po' meno soldi di BFM fa fare quello che una volta faceva il pullman con 8 persone a una sola persona quello è un pericolo che certe volte noi potremmo essere indotti ad andare in quella direzione e che invece dobbiamo evitare lo evitiamo secondo me però però è vero io purtroppo io poi qua c'è un problema nostro che non gestisco questa cosa perché io quando e questo è un problema un altro problema quando c'è un avvenimento io devo chiamare produzione produzione nome magico e loro fanno tutto trovano gli appalti bandano gli interni eccetera a me piacerebbe poter metterci le mani io ma questo è un problema più grosso di me diciamo ma per capirci come il problema sia reale e sia complesso al tempo stesso il web l'ho detto mi chiedeva il senatore Girola due parole in più sulle rubriche non volevo annoiarvi però vi faccio un elenco rapido perché sono tutti piccoli figli sono affezionato da che hashtag che fa cioè tutto quello che succede nel mondo di internet perché noi siamo connessi a twitter e a facebook quindi alla mattina si vede cosa c'è nel mondo della sfera che hashtag che fa l'abbiamo chiamato cronaca italiana cronaca dal mondo lo sport che non aveva una rubrica invece abbiamo due tre giornali sportivi in sinergia con Rai Sport Amarcord che è il pezzo di repertorio o un'intervista di Biagi di Davoli le inchieste di Marrazzo pensate appunto sulla criminalità del sud quanta roba c'è i problemi i muschilli di Marrazzo ripropongono Robin Hood di Santoro non è cambiato niente in trent'anni quindi la memoria è importante la strana atlantica che mi ha ribattuto il dato bussola sempre che è soprattutto io ci tengo la strana atlantica che terlo conto intanto dell'indicazione sul riequilibrio di Fratelli d'Italia grazie per lo spirito costruttivo con cui l'ha fatta e noi la facciamo molto spesso dall'Europa la rubrica di Vendicenti quindi cerchiamo di dare anche una dimensione non soltanto di cortile di casa ma di problemi legati all'Europa Newsroom Italia che è un prodotto appena nato alle tre per cercare di vedere cosa succede soprattutto in Italia appunto ma poi anche Mordi e Fuggi che è sul cibo però lontano dai cuochi stellati che io appartemente non sopporto ma un cibo di strada diciamo anche qui copio gli americani poi niente io mi ricordo da Siena facevo una stupenda cosa andando mangiando sul carrettino un frankfurter e poi spiegava da dove viveva un frankfurter che si mangia per strada quindi si può fare anche cultura partendo dal cibo di strada la salute che è non ve lo dico per niente è notizia sulla salute vitale tutti i frutti che sono le tendenze cioè tutti i frutti della nostra cultura dall'arte alla musica i pg del mondo che non c'erano abbiamo fatto una rubrica con tutti i titoli di pg internazionali in modo che si cerca di capire nella nostra sfittica panorama dell'informazione italiana quello che mettono in prima pagina i pg del mondo con la traduzione ho fatto addirittura un esperimento pillole di fisica cercando di far spiegare a una brava divulgatrice le storie della fisica che è uno spettacolo che funziona bene quindi si può anche parlare di fisica un po' ambizioso questo ma poi abbiamo approfondimenti poi fatti cercando appunto di andare a fondo quindi questo a volo d'uccello poi mi dimentico sicuramente qualcuno che si arrabbierà ma stiamo cercando di produrre ah naturalmente abbiamo la mattina studio 24 ah ecco mi ricordano così non posso tornare in columne stasera vroom sulla mobilità cioè non l'auto più bella ma tutto quello che va nel campo dell'innovazione e della mobilità studio 24 al mattino che è un dibattito soprattutto politico e a Marcor l'avevo citato sicuramente non ho dimenticato qualcos'altro diciamo comunque la sforza è sempre quello di fare addirittura delle speciali al volo sul tema come diario della critica abbiamo fatto però ci sono tanti altri temi facciamo sul terremoto naturalmente stiamo attentissimi perché l'importanza soprattutto non è solo che arriva prima anche che va via dopo quindi io personalmente farò un programma di cui sono molto contento che si chiama mattina di Natale il 25 mattina che andrò in onda anche su Rai 3 e questo è un esempio secondo me che pur di andare in onda su Rai 3 vado anche a mattina di Natale sto al fianco di come aprono la mattina di Natale i terremotati che è una brutta parola diciamo le persone vittime del terremoto e questo è un tipo di programma che va su Rai News ma in simulcast quindi senza spesa alcuna va su Rai 3 come ho parlato con Dario Abiliardi che ha mandato lo spazio e questo è un esempio che innuce e qui rispondo in qualche modo anche a Margiotta più che dirlo io che mi taccio mi marzo la lingua ecco diciamo che le cose che faccio hanno in nuce dei spunti utili al piano di domani cioè fare adesso stiamo studiando ad esempio d'estate che forse le reti generaliste non hanno i soldi per fare dei programmi noi andiamo in onda tutto 24 su 24 perché non andare in onda con Rai News io dico sempre al weekend invece di mettere la replica della nonna del Corsaro Nero dico che poi magari avremo un ascolto fenomenale ma non c'è però noi quando andiamo in onda su Rai 1 su Rai 3 al sabato fino alle 9 del mattino facciamo ottimi ascolti quindi io ho il programma adesso faccio un po' di conflitto di interessi conduco un programma che sembra ieri che è appunto strage oggi Sarajevo ieri facciamolo anticipo i titoli della puntata prossima Istanbul Ankara oggi Sarajevo ieri con un commento non storico terremoto oggi terremoto ieri come era Natale in Irpinian terremoto come si vive oggi lo conduco l'abbiamo messo in chiaro su Rai 1 per un po' di tempo alle 6 del mattino però adesso siamo riusciti a arrivare alle 8 del mattino su Rai 3 e speriamo che venga collocato adesso stiamo parlando insomma questo è il percorso cioè secondo me sono tanti i percorsi però l'integrazione la collocazione in chiaro la sinergia dentro questo lavoro senza che io mi arroghi un piano che non mi spetta ci sono degli elementi che secondo me possono parlare loro non io del futuro aggiungo che abbiamo la collaborazione con Raimondo o Rai Italia come si chiama adesso Rai Italia per cui abbiamo anche fatto un palinsesto pensato in modo che possa andare in tutto il mondo nelle Americhe e dare un'informazione utile infatti ho avuto dei risponsi perché per esempio io faccio Telegram che è lo tentativo di dare in una cosa breve di un 4-20 minuto di La Cosa del Giorno che va alle 6 ma mi ha scritto da Las Vegas che lì è mezzogiorno mi sveglio e posso vedere questa è un'offerta interessante per gli italiani nel mondo io direi sulla politica ovviamente è un problema complesso perché bisogna a me interessa diciamo che posso dire che la cosa più importante è riuscire ad avere degli strumenti che ci permettono di correggere perché altrimenti si diventano sterili polemiche quando noi avevamo avuto un'indicazione nel corso della campagna delle sede del no che c'era uno squilibrio nel tempo non di parola ma di notizia siamo riusciti la settimana dopo a correggere ecco e adesso senza addentrarmi credo che sia importante che qualsiasi strumento sia fatto perché io sono costruttivo sia fatto ci dia il tempo di di correggere perché tra l'altro poi su un arco di 24 ore è ancora più difficile che nei Tg quindi è possibile che ci sono delle sfasature ma e questo è l'esempio concreto abbiamo siamo riusciti a correggere e tutto poi è andato bene nel complessivo questo spero di non dimenticarmi niente ma mi sembra di avere risposto a quasi tutto ci sono richieste di chiarimenti e allora possiamo concludere qui buon Natale a tutti grazie 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 a tutti